Sabato prossimo, 30 giugno, ad Agrigento, nella Valle dei Templi, al Giardino della Colimbetra, nell'ambito della rassegna Sere-Fai d'Estate, la Farm Cultural Park di Favara festeggerà l'ottavo compleanno con diverse manifestazioni artistiche, culturali ed enogastronomiche, che si svolgeranno dalle ore 18.30 alle ore 24. L'ingresso costa 13 euro e per gli iscritti al Fai, il Fondo Ambiente Italiano, 9 euro. L'evento è stato presentato oggi in conferenza dai direttori della Colimbetra e di Farm Cultural Park, Giuseppe Loppilato e Florinda Saieva. Quest'anno, come l'anno scorso continua la collaborazione tra Farm e il Fai, nella fattispecie al Giardino della Colimbetra, e quest'anno proseguiremo i festeggiamenti del nostro compleanno nella splendida location del Giardino, dove ci saranno tante iniziative, tante attività curate da Farm, che vi racconterà meglio il nostro Peppelo Pilato. Sì, intanto il titolo è Celebration Farm. È un gioco di parole, perché chiaramente Celebration è la festa, ma Celebration è anche la celebrità raggiunta dalla Farm, che è tanto onore per il nostro territorio, che ha ribaltato sicuramente un po' la percezione di quello che è il nostro territorio, non più una somma di negatività, ma al contrario delle soggettività che creano sviluppo attorno al tema della cultura. Questo l'ha fatto la Farm e questo lo stiamo facendo nel Giardino della Colimbetra. Ecco perché stiamo insieme. Cosa faremo? Avremo gli artisti della Farm Cultural Park, che si inizia alle 7 e mezzo in quattro diversi punti del Giardino, dove delle danzatrici interpreteranno il mito di Eva, fanno dei piccoli spettacoli per piccoli gruppi di visitatori, che si muoveranno da un punto all'altro. Alla fine alle 8 e mezzo confluiranno nella nostra grande area spettacolo, quella dominata da un lato da un olivo secolare, dall'altro dal Tempio di Dioscoli, e lì completeranno questa celebrazione del mito di Eva, che poi è il mito della creazione. Infine alle 9 e 30 un artista presenterà la sua performance a sorpresa, io stesso non ne sono a conoscenza, c'è solo il titolo, uno di un milione, si tratta di Morgana, che sarà accompagnata da Luca Lagas. Luca Lagas è il bassista di un famosissimo gruppo rock, di Marlene Consi, che si è innamorato della Farm Cultural Park prima, del Giardino della Colimpetra dopo, ed è qui a offrirci la sua musica. Vi aspettiamo quindi tutti quanti sabato, dalle 19 e 30 in poi, al Giardino della Colimpetra per Celebration Farm.